Il sito web focus.it è una piattaforma di notizie e informazioni che copre una vasta gamma di argomenti tra cui scienza, tecnologia, salute, ambiente, cultura e società. Offre contenuti accuratamente selezionati e ben organizzati con diverse sezioni che consentono agli utenti di navigare facilmente tra gli argomenti di loro interesse. Uno dei punti di forza di focus.it e la sua ampia varietà di contenuti informativi aggiornati, gli utenti possono trovare articoli, video, podcast e approfondimenti su diversi argomenti tenendosi sempre informati sulle ultime novità e scoperte. Ulteriori considerazioni nell'info box di questo video.